Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Cats The Game Arriviamo a 300 pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi Lasciate l'hashtag CatsTheGame qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino Le clip per adesso sono sospese perché come vi ho detto stiamo facendo la Rottama Gang con gli youtuber ragazzi Troverete il link in descrizione per vedere la classifica Già la vedo brutta Massimo riusciremo a arrivare secondi Allora, io sto continuando a fare episodi tutti in una giornata ragazzi Perché voglio puntare a potenziarmi immediatamente Così possiamo farne molte di più e diventare molto più potenti E per questo andiamo ad aprire delle chest di quelle scioppone gigantesche Perché mi hanno dato la possibilità di farlo Quindi una bella scatola gigante ragazzi Che andremo a fare almeno un campionato e poi fare tutto il resto 115% a piramide 115% a balena 22% a classico Una balena Missile doppio Niente male Belliero Tripla arma Però a motosega Bruttissimo Cerchio una diamante Classico Titano Super cerchione Niente male Repellente Motosega Pomello Super rullo a balena Wow Piramide Mitra 37% a veliero Volano a diamante Piedone a balena Trapano Pongiglione Motosega Tutta roba inutile Forziere Masso Due armi Non supporta a motosega Però Peccato 27% a veliero 27% a classico Lama a diamante Diamante Molto strano Bonus danni Che ci può servire molto Ok ragazzi Ho potenziato il mio veliero Vado immediatamente a farmi il campionato Igorus che non riusciamo a battere Finalmente lo battiamo Battiamo tutti gli altri E passiamo di campionato Ci servono pezzi nuovi E livelli di pezzi nuovi Sinceramente Ok Bennox va giù Bennox va giù Di cattiveria Vai Nastra Buttiamo giù Nastra Va benissimo così Dobbiamo passare di campionato E potenziarci Tutto E subito Vai DLF Andiamo a farlo nero Ciaone DLF Contro Chuck Boris Addio Chuck Boris Ti stiamo facendo tutti di cattiveria Vai contro Perseus Passiamo avanti Siamo troppo potenti Ok Questo ci sta facendo del male Ma muore appena lo tocchiamo Ok Vediamo un po' Siamo a 11 vittorie Ti continua Possiamo arrivare a 12 Possiamo arrivare a 12 Perfetto Siamo a 12 ragazzi Vai 13 E si prosegue Non ci fermiamo Vai così 14 Ce la facciamo Sì contro Blackout Quindi si passa in automatico ragazzi Promozione Automatica Ok Ci danno la cassa speciale Le gemmine Soldini E punti esperienza A noi ci serve per salire ancora ragazzi Vai 3 stelle dorate Dobbiamo diventare ancora più potenti Allora Mi prendo le labbra Giusto per fare un po' di ironia Mitra Dorato 2 stelle Su balena Classico Con supporto E arma alta Pungiglione Un masso 2 armi 2 stelle Un veliero 2 armi Che non ci piace tanto Un bel missile doppio 5 stelle Un missile normale 5 stelle E una piramide Arma supporto Un bonus salute 2000 Ottimo Quello è veramente ottimo Ok ragazzi Provo a farmi un secondo campionato Perché dobbiamo assolutamente Arrivare oltre Ce la possiamo fare Ok Forse va giù Ok Questo va giù sicuramente Mamma mia Vuoto proprio Ok Vediamo un po' Se questo riusciamo a ucciderlo Fa più danni di noi Ha più vita di noi Ok Per fortuna che c'aveva il minigun Quindi ci metteva più tempo a fare danni Questo è un salterino Che rimbalza dietro di noi E dovrebbe morire dai missili Fortuna che l'ho fatto missili doppi Il mio mezzo principale Vai così Continuiamo Aggressivi Aggressivi Tanto 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 Perfetto Andiamo a 6 vittorie Dobbiamo farcela Ragà Dobbiamo farcela Se quello è saltato fuori Va benissimo così Ok vai 7 vittorie L'abbiamo fatto saltare indietro Lo possiamo colpire Perfetto Ok 8 vittorie Dai questa è sicura una vittoria Benissimo Perché ci mette troppo a colpirci Questo fa meno danni di noi C'è il sollevatore Ma non ci solleva Quindi 9 vittorie Speriamo che saranno tutti così Questo fa 11.000 danni Muore lui Vai così 10 vittorie Motosega laser Dovremmo vincere noi Per peco No Per un pelo Per un pelo ragazzi Per un pelo Ok Questo lo ammazziamo Quindi 11 vittorie Vai così La possiamo fare anche contro di lui Ne sono più che certo 12 vittorie Vai Di cattiveria Perfetto 13 vittorie ragazzi Solo per quel tizio Non abbiamo passato in automatico Quindi adesso vado a potenziarmi E lo facciamo subito E niente Visto che ce l'abbiamo Altra scatola gigante Di cattiveria Mi sto potenziando pesantemente Missile a classico Wow 115% Piedone a furtivo Non lo utilizzerò mai Masso Missile doppio a piramide Furtivo Laser a classico Mitra Homella a titano Super hull a veliero Volano a veliero Ottimo Piramide Due armi supporto Speriamo che sia sufficiente come energia Diamante Pungiglione Balena Arma supporto bassa Classico Super cerchione a balena Ottimo pure quello Motosega 37% a diamante Rullo a veliero Veliero a piedone Molto brutto quello Repellente a diamante Trapano Titano Che non ci piace per nulla Lama E bonus energia Sarebbe piaciuto più un bonus danni Sinceramente Visto che non riesco ad andare avanti nel campionato Voglio esagerare Vai Mi potenzia ancora Mi potenzia ancora Dai e dammeli Perfetto Sollevatore a mitra No Piramide 115% a cerchione Potrebbe essere simpatica Un repellente 27% a missile Molto interessante Un massa a piedone Un diamante Un classico Due supporti Un'arma Molto interessante Un laser usato su furtivo 5 stelle Super rullo A classico Furtivo Mi piace tanto Retromarcia Missile Balena Lama Usata su balena Pomello Su furtivo Veliero Arma supporto Però non ci piace più di tanto Pungiglione Trapano a balena Super cerchione A classico Volano a diamante Motosega Titano Due armi supporto Però poche stelle Piedone Cerchione Mitra usato su veliero Molto interessante Missile usato su masso Bonus energia Volevamo un bel bonus danni Ma tanto non esce mai Ho dato un'aggiustata Alla mia squadra Ho creato un classico Con la roba che abbiamo trovato Che è un 31.682 3.900 di attacco Con un repellente Fantastico davanti Un missile potenziato Alla grande E le ruote Che potenziano Tutta la vita Quindi lui Andrà a combattere Contro il primo Sicuramente Salterino si farà Il secondo Se ce la fa Con la vita E lui si dovrebbe Uccidere il terzo Riproviamo Visto che ancora Ho possibilità In questa maniera Allora vai Classico Facci sognare Ok Ha fatto quello Che volevo io Però ci colpisce Lo stesso Il suo maledetto Guardate la sfortuna Aiaiaiai Questa è una brutta Cosa Allora posso Allora posso provare A fare così Con poca vita Perfetto Che l'ha Che l'ha fatta Ragazzi Ce l'ha fatta E non l'ha neanche Cappottato del tutto L'ha lasciato così Appeso lì Mi quasi dispiace Ok L'abbiamo sconfitto E questa è un'ottima cosa Adesso questo classico È una sorta di sacrificio Perfetto Va bene così Gli abbiamo tolto Una buona parte di vita E adesso Gli tocca Al nostro Salterino Vai Facci sognare Salterino Si è cappottato Si è cappottato Da solo ragazzi Quella balena Si è cappottata Abbiamo la possibilità Di fare gli altri danni E prendere altre coppette GG GG Allora Vediamo un po' Questa balena Vediamo un po' Se fa lo stesso scherzetto Dell'altra Non si cappotta In avanti Quindi torna indietro Forse Forse Non ci tocca Con la lama Ragazzi Riusciamo ad andare avanti Oh Ecco qua Un altro po' di gemmine Gemmine Vabbè Diciamo di coppette Ok Andiamo ad aprire Anche la nuova cassa Ragazzi Le sto facendo tutte Nella stessa giornata Quindi voi li vedrete Una o due volte al giorno Sicuramente Vai Motosega Su classico E lama Motosega su classico Non mi piace tanto E continuiamo Ma il primo Avete visto Quanta vita 56.000 Penso che non ce la farò Ma ci dobbiamo provare Con il nostro classico Può spingerlo via Quindi abbiamo Qualche Si Abbiamo lanciato via Ok Che dite Ce la facciamo con lui A fare la stessa cosa Quasi Quasi L'abbiamo cappottato Però Quindi possiamo ucciderlo Con tanta calma Perfetto Questo classico Ci sta facendo sognare Vai Fallo pure con lui No No Con lui non ce la puoi Fa Beh Però lo stai battendo Ha fatto tutto Il classico GG Altre 25 coppette E ci apriamo anche Questa bella scatola Di livello 7 Un mitra 37% Usato superiero Molto carino E un propulsore 27% Al laser E ne sto facendo Un'altra ragazzi I nostri avversari Si fanno sempre più potenti E più difficili Ok Se non torniamo indietro Questo l'abbiamo battuto Così Non ci credo Abbiamo ammazzato Un triple missile 18.000 di danno In questa maniera squallida Ok Possiamo andare Anche contro questo Bellissimo salterino Diamogli qualche danno Dai Giusto per Ok Adesso io Sono in dubbio C'ha 28.000 di vita Speriamo che non si rialza Se non si rialza Perfetto Sta venendo verso di noi Ma abbiamo il tempo Di ucciderlo Ce la faremo Forse si ragazzi Forse si Dai Dai un altro tocchetto No Non ce l'abbiamo fatta C'è morto E quindi Vuol dire che dovremmo sprecare lui No Neanche gli ha fatto danni Quindi siamo contenti L'ultima è facile da battere Siamo riusciti a battere anche questo Vai che si va avanti Più coppette Più coppette per noi Altre 30 E così facendo Ci apriamo un'altra bella scatola Livello 8 Un veliero Arma supporto a lama Bruttissimo E un rullo a classico Questo è veramente bello Ok Devo ammettere che ora La vedo molto E ripeto Molto brutta ragazzi Perché sono veramente Enormi Sinceramente Ci proviamo Il primo ha una vagonata di vita Potremmo provare Andargli sotto Ma non ce la facciamo E quindi siamo Veramente Veramente Tanto nei guai Perché il nostro salterino Per quanto possa essere figo Non ce la fa Ma fa 56 mila danni Ma non ce la farebbe Neanche il mio principale Sinceramente Questi mi sa che Stavolta Non li battiamo Non ce la facciamo Ragazzi Ci credo Quanto vuoi È impossibile Questo fa 20 mila danni Però non ci ha toccato Col primo colpo Eh Ah ci ha ammazzato Lo stesso No Non è fattibile Siamo arrivati Al nostro limite E va bene ragazzi Penso che per oggi Sia tutto Cerchiamo di arrivare A 300 like Condividete il video Iscrivete al canale Se è nuovi Lasciate hashtag Catch the game Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino Queste puntate le sto facendo Tutte nello stesso giorno Quindi se vedete Questo punteggio Delle Rottama Gang Non preoccupatevi ragazzi Sono già sicuramente Molto più alti Troverete il link In descrizione Per andare a vedere Il reale punteggio A quanto siamo E niente Spero vi sia piaciuta Ci vediamo alla prossima puntata